Benvenuti a Damanhur, benvenuti al centro Damanhur, sala Adriano Livetti in Damanhur Crea. Questa sera abbiamo con noi due ospiti graditissime e prestigiose, prego Jean Houston e Peggy Rubin. Sono molto onorata di essere qui, Peggy ed io siamo onorati, perché quello che avete creato qui è una cultura mitica nel migliore dei sensi possibile. Ho saputo di voi da tanti anni e sono arrivata qua per la prima volta circa un mese fa e sono rimasta sbalordita letteralmente dalla profondità, la complessità, l'ampiezza della cultura che si è riuscita. Una società che opera veramente ad ogni possibile livello, psicologicamente, spiritualmente, governantemente, ecologicamente, le relazioni interpersonali, per creare le basi di una società nuova emergente. Io ho lavorato in oltre 108 nazioni e se noi non avremo delle società sperimentali come Damanhur forse ci rimangono al massimo altri 200 anni di vita. Questi sono i tempi e noi siamo le persone. Una parola che usiamo dai greci, intelleghi. È l'intelligenza di una ghianda che è racchiusa dentro la ghianda di poter diventare una intera quercia. È l'intelligenza di un bambino, un neonato, di svilupparsi un adulto. È l'intelligenza di ogni uno di voi di essere in grado di essere molto di più di quello che avreste mai immaginato. Quando entriamo in contatto con la nostra intelleghi interiore, con il nostro io superiore, Questo scaturisce una sorgente di trasformazione interiore, di crescita, che sarebbe stato difficile precedentemente fare nascere. C'è anche l'intelligenza di una società. Quindi l'energia che è in questo seme, di questa energia che è capace di guidarci, Che è già lì. Quando ho visitato questo posto meraviglioso, quello che avete creato qui, Si sente che è quasi possibile toccarlo. Questa energia che avete creato. Di un sogno alto e nobile. Quindi questa è la forza che ci spinge in avanti, tutti quanti. E non c'è alcun dubbio che lo spirito di Damanhur è pieno di questo spirito dell'intelleghi. E dell'intenzionalità, come mantenere l'attenzione. L'arte e la scienza della manifestazione, come fare accadere le cose. Come rimanere focalizzati in modo tale da evocare il genio che è la forza per arrivare fino in fondo e colpire l'obiettivo. E diceva, questo è quello che voi fate costantemente. E il settimo fratello nobile rappresentava il futuro delle generazioni a venire. Colui che era in grado di catturare quello che cadeva dal cielo. E creare il futuro. E ovviamente è una cosa che voi fate molto bene. Voi afferrate sicuramente. Ho un'idea. Se le Nazioni Unite potessero prendervi tutti e portarvi in giro per il mondo, tutto sarebbe bellissimo. Infine, in questa società mitica chiamata Damanhur, state davvero creando un senso delle storie più grandi che possono esistere per noi ora e nel futuro nascente. Come guardo, mentre vedo i vostri strumenti, la vostra selfica, i tempi dell'umanità, il vostro cibo, mentre vi parlo. E prendo coscienza dell'incredibile base ampia della vostra società. Mi rendo conto che voi state detentori dei semi, che sono in un certo senso semi della Terra, ma semi cosmici. Della storia dei tempi che desiderano emergere. Una nuova storia. La cosa importante è veramente sapere e celebrare il fatto che state creando e vivendo all'interno di un dono alchemico preziosissimo. Un grande amico, Irvin Laszlo, un grande fisico, ma anche un uomo del Rinascimento, dice che Damanhur è un laboratorio per il futuro dell'umanità sulla Terra. So che a volte con tutto quello che avete da fare e con l'entropia che cerca sempre di emergere per fermarvi, a volte potreste provare un senso di scuramento. Ma se sentite questo da qualcuno che ne ha viste tante, io vengo da una famiglia che non invecchia facilmente, avrò 77 anni al mio prossimo compleanno. ma ve lo dirò in tutti questi anni e in tutti questi paesi ho visto tanta tanta umanità e quello che sta succedendo qui è eccezionale, è unico ed è molto, molto importante per il futuro dell'umanità. E 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 Grazie.